La raccomandazione di leggere attentamente la composizione dei prodotti alimentari per sapere che cosa mettiamo nel carrello della spesa è quanto mai giusta e necessaria, come raccomandano le associazioni di categoria e gli addetti ai lavori, a patto che però i dati riportati in etichetta siano veritieri e non fasulli, come scoperto dagli investigatori nei giorni scorsi. I carabinieri forestali di Peso Rubino hanno sequestrato ingenti quantitativi di pasta etichettata con false indicazioni nutrizionali e priva del contenuto proteico minimo per essere commercializzata in Italia. Le confezioni di pasta rinvenute in commercio in provincia di Pesaro, ma distribuite presso una nota catena della grande distribuzione organizzata, riportavano il claim nutrizionale ad alto contenuto di proteine, mentre dalle analisi effettuate è emerso che il tenore proteico era addirittura inferiore ai limiti di legge. Le indagini, dopo un primo sequestro di iniziativa del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentale e Forestale, sono state ordinate dalla Procura di Pesaro, che ha portato al sequestro preventivo di 45 tonnellate di pasta nello stabilimento di produzione e presso la piattaforma di distribuzione dell'azienda. Nell'esecuzione del provvedimento sono stati coinvolti i reparti dei carabinieri forestali di Marche, Emilia Romagna e Lombardia. Le ditte produttrici hanno immediatamente ritirato il prodotto presente negli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione, destinandolo con l'assenso della Procura all'alimentazione del bestiame. Commisionate anche sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro.